Da domani riapre la Statale 47, per noi è una notizia estremamente importante. Riapre con tre giorni di anticipo la Statale 47 dopo la chiusura dovuta alla frana del 12 gennaio. Via Libra di Anas l'ha careggiata a sud con doppio senso di circolazione per i mezzi con massa pieno carico inferiore a 25 tonnellate. Ci sono delle limitazioni di peso, quindi per i camion particolarmente pesanti, però possono passare le corriere, possono passare alcuni mezzi pesanti, quindi c'è una limitazione, ma una limitazione minima. Consegna anticipata che regala una boccata d'aria, o meglio un weekend in più, anche all'economia del territorio, soprattutto dopo le nevicate degli ultimi giorni. C'è anche un tema economico e quindi il fatto che le località scistiche che hanno molto sofferto queste difficoltà nell'essere raggiunte avranno la possibilità di avere una migliore accessibilità. Notizie che arrivano anche dall'altra parte, quella ancora danneggiata, del viadotto di San Marino, o i cui tempi del completo ripristino sono previsti in circa 100 giorni. L'altra notizia importante e significativa è che comunque sull'altra parte del viadotto si riuscirà a lavorare con la strada aperta, perché in un certo momento si è rappaventata anche la necessità di intervenire a strada chiusa e questo è particolarmente significativo. Nessuna novità invece sulla riapertura del tratto ferroviario, sul calendario sempre segnata la data del 20 marzo. Non abbiamo comunicazioni di forme rispetto al fatto che si aprirà il 20 marzo e quindi anche per questo per noi è un elemento significativo. Ci sono voluti dei tempi per mettere a norma e per installare queste reti, ma sono reti più importanti che consentono sia di riaprire la tratta ferroviaria che ai dipendenti ANAS di lavorare in sicurezza.